attenzione ho appena iniziato volevo leggervi un contratto però a questo punto saluta io mentre sono qua capisci? non senti freddo? ma io sto benissimo hai finito di fare la tua consulenza? pazzesco perché sai che a questi ragazzi adesso gli leggiamo un contratto di una major di distribuzione licenza cosa ne pensi? un commento a caldo vogliamo beh che per raggiungere la sostenibilità l'ideale è fare contratti con distribuzione licenza standard non so cosa sia distribuzione allora te lo spiego te lo spiego dopo che intro incredibili pazzesco allora al netto di queste intro incredibili ora entriamo nel tema di oggi vi leggo un contratto di distribuzione e licenza di una major ok discografica ovviamente non diremo quale major non diremo un collega mi ha gentilmente inviato una ovviamente questo contratto vede incredibile incredibile non trovate incredibile che in un canale che vi parla di music business di imprenditoria musicale tutto quello che fare col lavoro addirittura le persone che vi danno queste informazioni sono persone che conoscono realmente il settore no perché incredibile oggi spesso questo non succede ok di solito il pizzaiolo insegna a suonare la chitarra come il chitarrista a volte è più bravo a fare il pizzaiolo ma al netto di questo anch'io mi devo divertire leggiamo questo contratto facendo delle doverose premesse perché intanto leggere questo contratto perché notiamo che le persone firmano porcherie ce ne capitano a decine se non a centinaia perché perché quando si entra nella modalità o si entra nella tematica discografica poi qualsiasi sia il segmento in questo caso si parla di distribuzione di licenza potrebbe essere un contratto di altro tipo ok le persone soprattutto magari gli artisti musicisti entrano diventano improvvisamente dei beoti scusate se ve lo dico in questi termini ma è come se perdessero totalmente la lucidità perché perché aveva l'emozione il contratto cerco un contratto discografico tutte queste cose qua senza ricordarsi che un contratto è innanzitutto un accordo tra due realtà tra due parti che presuppongono il fatto che ogni parte deve avere chiaro il proprio modello ma poi vedremo per quale ragione e un accordo è funzionale nel momento in cui ogni parte fondamentalmente riceve un beneficio bilaterale dalla stipula di un accordo ok contrattuale questa è la prima premessa seconda premessa non sono un avvocato quindi la cosa che voi dovete assolutamente fare è che quando si parla di contratti qualsiasi essi siano dovete farli leggere mannaggia a voi a un legale a una persona che sa che cosa sta sa qual è la tematica che dovrà affrontare perché perché non fare leggere i contratti ad un legale una persona esperta è sempre un errore sempre perché ci sono tanti piccoli dettagli che possono scappare io ad esempio come persona quando mi trovo a dover firmare qualsiasi cosa alzo il telefono dico ma maria grazia posso chiederti questo posso poi dirmi che cosa ne pensi di questo c'è qualcosa che non ho valutato che sarebbe meglio valutare c'è qualche parte che andrebbe cambiata all'interno di questo contratto eccetera eccetera questo dovete farlo anche voi consiglio ulteriore a volte le società stabiliscono oppure nel caso di contrattualità artistiche questa è una cosa che capitava sicuramente più spesso anni fa ma succedeva ad esempio che all'interno di un accordo la parte legale quindi legale che era doveva poi rappresentare l'artista era lo stesso della discografica ok quindi evitate questa cosa cercate sempre delle una terza parte che sia appunto super partes ok soprattutto se vi deve rappresentare se vi deve tutelare tutela legale seconda premessa terza premessa è un contratto standard cioè cosa vuol dire che questo è il canovaccio di partenza ok su cui poi vengono costruite magari cioè viene costruito quella che è l'impalcatura contrattuale a seconda della situazione specifica ok quindi non è detto che questo contratto quello che è scritto su un contratto è legge cioè o meglio non può essere scusate è legge sì non può essere modificato o non può essere non so come dire ci sono delle parti che non possono essere sottratte o addizionate non so se si usa dire quindi queste tre premesse erano doverose ora io ve lo leggo e cerchiamo di tirarne poi delle conclusioni ripeto contratto standard di distribuzione di licenza ok tra ovviamente azienda in questo caso major non diremo quale come non diremo chi ci ha dato questo foglio e ovviamente il in questo caso il produttore quindi uno oggetto del contratto 1.1 il produttore concede a società i diritti esclusiva per la distribuzione digitale della registrazione fonografica dell'opera musicale dal titolo interpretata da di seguito registrazione ok quindi qua chi sono le parti in causa il produttore quindi in questo caso tu perché vedi dobbiamo uscire oggi succede vabbè casino dobbiamo uscire dal ruolo in questo caso del creativo dell'artista quello che è no tu in questo caso sei il produttore ok ovviamente abbiamo l'azienda e in questo caso la registrazione quindi quello che è l'oggetto poi di che verrà distribuito il licenziato ok più precisamente i sensi di tale accordo il produttore concede a azienda i seguenti diritti sulla registrazione per tutta la durata del contratto e per il territorio sotto indicato il produttore concede 1 il diritto esclusivo di riprodurre la registrazione riversando su file digitali e aperta parentesi solo eventualmente su fonogrammi in formato fisico e quindi c'è poco da aggiungere qua il diritto esclusivo di commercializzare e distribuire la registrazione nel territorio mettendo a disposizione dei consumatori ai fini dello streaming e o downloading occhio che qua si parla di diritti esclusivi quindi io nel momento in cui firmo ipoteticamente questo contratto quella registrazione e e questi termini diventano di diritto esclusivo c'è solo questa azienda potrà fare queste cose qui su quella registrazione poi andiamo avanti il diritto esclusivo prevesse approvazione scritta il produttore di riversare la registrazione accoppiandola con registrazione fotografica di altri artisti interpreti ed esecutori al fine di realizzare compilation nonché al fine di riprodurre porre o far porre in commercio nel territorio dette compilation quindi la libertà di poter prendere i vostri brani e inserirle all'interno di compilation di altri artisti eccetera eccetera playlist ok il diritto esclusivo preve approvazione scritta del produttore di concedere in sub licenza terzi la registrazione cioè cosa vuol dire io concedo in licenza il mio brano a questa attività ma all'interno di questo contratto questo stabilisce che la società può a sua volta concedere in licenza a terze parti la suddetta ok il registro il suddetto materiale registrato la registrazione il diritto non esclusivo di utilizzare pubblicamente il nome dell'artista interpreta esecutore della registrazione della sua firma autografa e le sue immagini fotografiche su qualsivoglia altro materiale direttamente connesso con la vendita la promozione o la pubblicità della registrazione quindi in questo caso il diritto non esclusivo di utilizzare pubblicamente il nome dell'artista e del materiale cioè potete non siete totalmente blindati da questo punto di vista 1.2 il produttore garantisce di essere titolare in via esclusiva dei diritti di produttore fonografico sulla registrazione prima di andare avanti che cos'è il produttore fonografico questi paroloni il produttore fonografico sei tu cioè chi ha la proprietà del master in questo caso io dico sei tu se tu hai pagato se tu hai prodotto se tu sei stato come adesso non ricordo qual è la dicitura ma ufficiale se tu sei stato la persona che ha proprio voluto incidere questo materiale si è preoccupato di tutto quello che erano gli oneri ok economici della realizzazione di tale opera ok quindi attenzione perché è quello che dicevo prima qui vale doppiamente usciamo dai panni dell'artista del musicista del creativo entriamo nei panni della persona che in questo caso si sta negoziando come vedremo un contratto quindi voi siete ed è questo anche il grande problema della della contemporaneità della musica di oggi nella gestione che spesso ci si dimentica che un artista oggi non è più solo un artista ma deve essere imprenditore di se stesso fortunatamente e imprenditore di se stesso a seconda dei casi può anche essere produttore fonografico cioè si produce le proprie opere questo fortunatamente non lo diciamo noi ma iniziano a dirli in tanti dandoci finalmente ragione dopo anni e anni di rotture di palle nel tentativo di educare ok quindi garantisce di essere titolare via esclusiva dei diritti produttori fonografico e concede a azienda il diritto di porre in essere per il territorio più sotto definito la distribuzione esclusiva della registrazione in formato digitale tramite le relative piattaforme ripeto distribuzione esclusiva per quanto concerne i diritti sopra previsti eventualmente non spettanti in via originaria al produttore occhio cosa succede cosa vuol dire per quanto concerne i diritti sopra previsti perché un produttore fonografico come proprietario del master ok a diritto cioè è uno degli aventi diritto ok ora qua si entrerebbe nel tema del dei diritti ok dei diritti connessi dei diritti d'autore cioè avere diritto che cosa significa significa che può richiedere un compenso nel momento in cui quell'opera viene sfruttata viene utilizzata ok se c'è qualche avvocato lì fuori mi aiuti se parlo in modo errato se lo sfruttamento di quell'opera genera un guadagno un ricavo questo succede anche non necessariamente cioè se tu non hai una partita IVA ma sei produttore fonografico comunque hai diritto ti spettano ok dei compensi quindi che cosa intende per quanto concerne i diritti sopra previsti eventualmente non spettanti in via originaria al produttore quest'ultimo dichiara che garantisce di avere acquisito i diritti stessi da coloro cui spettano al fine della loro cessione trasferimento a azienda in base al presente accordo ma levando l'azienda in questo caso nome azienda da ogni responsabilità o richiesta di terzi a proposito cioè cosa vuol dire che se io sono il produttore fonografico dell'opera tratto marker tratto video arancione però per l'opera tratto video arancione io ho dovuto mettere in mezzo altri artisti altri performer altre persone bene qualche cosa ci sta dicendo in modo terra terra questo contratto che l'azienda vuole avere un rapporto con me e se poi io all'interno di quella registrazione quindi di quel prodotto fonografico non ho preso accordi con altri oppure devo dei diritti del tappo del pennarello arancione ad Antonio che è di là ma io questo ho fatto finta di niente lo sapevo l'azienda dice a me non me ne frega niente io voglio avere a che fare con te quindi se poi tu avrai problemi con terzi sono fatti tuoi perché perché tu in questa in questo contratto mi stai dicendo che hai tutti i diritti necessari e hai richiesto tutto quello che è necessario per essere considerato appunto il produttore fonografico e quindi poterti prendere carico ok di queste decisioni ok e di essere se non l'unico avendo diritto ma se non fossi l'unico avente diritto di avere preso accordi con le parti aventi diritto qualora sussistano spero di essere stato chiaro se non sono stato chiaro vi consiglio un rewind e ripartire si dà atto in via soltanto esemplificativa che nelle cessioni di cui sopra di cui sopra sono compresi i diritti spettanti a qualsiasi artista interprete esecutore che abbia partecipato all'effettuazione della registrazione nonché più in generale i diritti spettanti a chiunque altro abbia partecipato e ho collaborato alla realizzazione delle registrazioni medesime è quello che dicevo cioè se ci sono altre persone aventi diritto ok io voglio avere a che fare con te che sei quello che firmerà il contratto articolo 2 territorio il presente contratto è valido per il territorio del mondo ok quindi in tutto il mondo in tutto il globo articolo 3 che io ripeto non ve lo voglio far vedere troppo da vicino per non rischiare di 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 perché teoricamente questa cosa non so se si potrebbe fare però omettendo chi sono le parti in causa perché no articolo 3 durata del contratto e dei diritti concessi il contratto e i diritti concessi dal produttore a azienda ai sensi del presente contratto hanno la durata di 5 anni dalla pubblicazione della registrazione questo è interessante perché perché ricordatevi che di solito i contratti spesso volentieri soprattutto le distribuzioni di licenze possono avere una datazione dalla stipula del contratto quindi io lo stipulo oggi e vale per oppure al contrario in certi casi dalla data di pubblicazione quindi io posso stipulare questo contratto oggi ma se poi il mio prodotto viene pubblicato nel 2029 ok io sto facendo degli esempi ovviamente estremi l'effettivo start del 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 time diciamo del timeline dei cinque anni avviene nel momento in cui vi è la pubblicazione perché è importante saperlo perché poi non potete venirvi a lamentare magari dopo tre anni dire ma io rivolgo indietro ok cosa che abbiamo visto succedere i diritti e passare ad altro distributore o altra società ok perché perché avete firmato magari una porcata una porcata avete firmato qualcosa che non andava magari firmato andava valutato in sede di negoziazione articolo 4 corrispettive a favore del produttore sfruttamente digitali della registrazione quindi qua si parla dei propri corrispettivi economici il 75 per cento 75 per cento sul 100 per cento delle somme nette effettivamente incassate da azienda per lo sfruttamento della registrazione attraverso le reti telematiche streaming downloading eccetera eccetera quindi il 75 per cento sul 100 delle somme qui si parla ovviamente di streaming download e quant'altro questo è incredibile è la parte che io trovo più bella ma arriveremo a discuterne sfruttamenti della registrazione in formato fisico aperta parentesi eventuali il 50 per cento del ppd aperta parentesi prorata numeri numeris il ppd ok è il published price per dealer ok spero di averlo detto in un inglese meraviglioso cioè questo vuol dire è il che io e questo è un aspetto che trovo assurdo perché qua si parla delle vendite ovviamente in questo caso price per dealer si intende solitamente la vendita fisica però la cosa assurda ma lo vedremo dopo che nel momento in cui io mi pago le copie fisiche ma perché io ti devo dare il 50 per cento ok o meglio lo vedremo in cambio di cosa io devo darti il 50 per cento ok su un bene che viene venduto quindi occhio published price per dealer quindi il prezzo ok a cui viene venduto quel bene a te se poi tu magari effettivamente non hai partecipato alle spese della realizzazione di quel prodotto questo è qualcosa da vedere contate solitamente io qua mi sono messo alcuni appunti che solitamente sulle vendite fisiche di norma si ragionava sul 4 16 dal 4 una forbice che andava dal 4 16 per cento in favore dell'artista perché dal 4 16 per cento e voi direte cacchio è basso perché logicamente la discografica si preoccupava di realizzare ovviamente di stampare ok di produrre quei quei prodotti no e quindi logicamente il la percentuale spettante in questo caso all'artista o al creativo di turno era minore contate per esempio che invece per quanto riguarda sempre il passato la percentuale per sincronizzazione licenze quindi per lo sfruttamento delle opere ok si parlava di un 25 per cento non entriamo nel tema di di quelli che sono i diritti generati dall'utilizzo ok su varie su vari formati e su vari non mi viene il termine insomma su vari supporti il la propria musica perché qui si entrerebbe in un altro ginepraio articolo 5 rendiconti nome società invierà trimestralmente al licenziante entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare un rendiconto riportante le vendite relative alle registrazioni così come a sua volta ricevute dai gestori delle piattaforme distributive digitali gli incassi effettivi da terzi avvenuti nel periodo e le percentuali dovute al licenziante stesso pagamenti a 30 giorni da ricevimento fattura cioè quindi io ti invio una fattura sulla base di questa rendicontazione tu in 30 giorni me la devi pagare ok ricordatevi che questa è una cosa che vi dico che probabilmente può non centrare con con questo ma è una cosa che mi viene in mente ricordatevi che i poveri ok solitamente è brutto da dire prima lavorano poi vengono pagati le persone che hanno controllo prima vengono pagate poi lavorano ok io su questo apro e chiudo una parentesi perché la persona potrebbe dire il povero non intendo solo i poveri economicamente intendo anche i poveri dal punto di vista soprattutto mentale ok prima voi guardate cosa succede nelle aziende un dipendente prima lavora poi viene pagato perché quei soldi che l'azienda deve pagare come corrispettivo per il lavoro svolto possono essere utilizzati per altri scopi e poi ovviamente si paga il lavoro quindi se lavorate cercate il quanto più possibile di evitare come la peste questa condizione per farlo logicamente bisogna strutturarsi in un certo modo andiamo avanti realizzazione master e parti grafiche copyright il licenziante si impegna ad ottenere a propria cura e donere e a consegnare a nome azienda il master recording definitivo della registrazione e le parti pronto per l'uso senza necessità di ulteriori modifiche l'azienda predisporrà affinché siano versati alla CIA i costi per i diritti fotomeccanici e altri diritti analoghi in base alle informazioni ricevute dal licenziante cioè cosa vuol dire qua ed è per quello che io dico che su questo bisogna fare attenzione anche unire un po' i punti perché se io mi devo preoccupare a mie onere spese della realizzazione sia dell'opera quindi in questo caso del master ma allo stesso tempo di quelle che possono essere stampe copie eccetera eccetera non vedo perché ad esempio ma mi viene un esempio io ti debba dare il 50% di PPD i diritti fotomeccanici o DRM ok quindi DRM è diritto di riproduzione meccanica se non erro ok io mi sono segnato qua DRM ma non vorrei dire una cazzata magari andate a controllare DRM mi sembra che sia diritto di riproduzione meccanica che cosa si intende tutti quei diritti generati dall'utilizzo di quell'opera come dicevo prima che avvengono grazie allo sfruttamento dell'opera o all'utilizzo dell'opera su altri mezzi ok quindi questo è quanto non entriamo per favore in questa tematica sarebbe bello ma ripeto ci vorrebbe molto di più per entrarci promozione articolo 7 la promozione del marketing saranno effettuati a cura e spese del licenziante eventuali video saranno resi disponibili a cura e donere del licenziante e saranno licenziati a quindi io devo pagare il marketing e la promozione eventuali video saranno pagati ok a donere del licenziante quindi la persona in questo caso chi è sta dall'altra parte che non è l'azienda deve firmare questo contratto e saranno licenziati a per ogni utilizzo promozionale e in caso di utilizzi economici alle medesime condizioni dei fonogrammi ai sensi del presente accordo quindi se poi succede qualcosa le condizioni e le ripartizioni sono le medesime resta inteso che nome azienda fornirà eventualmente dietro richiesta scritta del licenziante la propria collaborazione per l'attività di spedizione della registrazione in formato digitale cd singoli promozionali alle radio e di successiva rilevazione dell'airplane nelle radio italiane tenendo a proprio onere relativi costi ok ci mancherebbe altro io aggiungerei su questo direi che devo aggiungere qualcosa cioè fondamentalmente ci stanno dicendo che se poi il disco loro lo devono spedire alla radio devono fare queste attività che rientrano all'interno ovviamente di una strategia queste sono ovviamente a carico loro commercializzazione e distribuzione dei fonogrammi nome azienda si impegna a commercializzare la registrazione in formato digitale con particolare attenzione alle principali piattaforme online e telematiche e o telefoniche pazzesco la data di consegna della registrazione e le date di messa in commercio sono stati decisi in comune accordo tra le parti tutti i costi distribuzione amministrativi saranno a carico dell'azienda anche qua a volte le persone dicono eh vabbè ho stipulato questo contratto però l'azienda mi distribuisce ma ci mancherebbe altro cioè arriveremo a trarre delle conclusioni che possono esservi utili controversie quindi qua per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente in via esclusiva al foro di in questo caso eh tribunale di e ho tolto la città negoziazione le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di trattative tra le parti eh interamente da ogni singola parte che non sono quindi applicabili gli articoli del codice civile e poi c'è il trattamento dei dati personali ora che cosa ne veniamo a casa da dalla lettura di queste eh di questa eh di questo canovaccio che dobbiamo essere degli avvocati no che dobbiamo rivolgerti ad un avvocato sì ma cosa ancora più importante che dobbiamo avere un nostro modello di business quindi da consulente come valuto questo tipo di accordo al netto di alcune parti che io personalmente di cui chiederei modifica è un accordo dove fondamentalmente è sottointeso che io azienda quindi che ti sto proponendo questo contratto ho un business model fatto in una certa maniera eh che ha una direzione di un certo tipo che ha una commercializzazione che ha una gestione di un certo tipo e tu che sei il licenziante ok quindi sei la persona che ehm con cui io azienda entro in accordo do per scontato che tu hai un business model e da dove si vede si può percepire questo che giustamente loro dicono la promozione e il marketing saranno effettuate a cura e spese del licenziante punto cioè cosa vuol dire che se tu non hai un tuo modello a me azienda non me ne frega niente al massimo ho raccolto a catalogo e quindi a licenza dei prodotti quindi se tu non sei strutturato non è un problema mio ok e voi direte ma perché un'azienda dovrebbe fare cose di questo tipo perché ad esempio sono successe tante tante volte casi di magari aziende che hanno raccolto dei cataloghi che poi nel corso del tempo sono brani che hanno funzionato hanno avuto una determinata rilevanza per ragioni spesso magari che non hanno alla base un modello una strategia specifica e quindi logicamente io azienda nel momento in cui ho preso in catalogo determinate opere è un po' come se da una parte mi stessi garantendo ok la possibilità futura di guadagnare da un'opera di cui non ho dovuto fondamentalmente cacciare un euro quindi il discorso qual è che una persona dovrebbe fare nel momento in cui firmo un contratto uno ho un mio modello di business chiaro so che cosa sto facendo punto numero due il contratto è utile allo sviluppo del mio modello di business o è qualcosa che non è utile allo sviluppo del mio modello di business o addirittura lo può danneggiare perché tante persone non si rendono conto che a volte magari fare determinati contratti come ad esempio questo può essere buono se c'è alla base una strategia a volte può essere deleterio a volte può essere mortale ok perché perché logicamente bisogna tenere gli occhi aperti bisogna avere chiaro un proprio modello perché se tu hai chiaro un tuo modello sarai in grado di essere più aggettivo nella valutazione delle proposte che ti arrivano questo noi i nostri clienti lo diciamo sempre ma se tu cerchi delle partnership come fai a creare una partnership se chi sta dall'altra parte non ha un modello di business dando per scontato che tu ce l'abbia ma questo è un problema con cui noi spesso ci troviamo che ci troviamo ad affrontare ve lo voglio dire uscendo un attimo dal seminato spesso le persone ci dicono ah ho visto che fate questo questo quest'altro che state facendo questo quest'altro vorremmo collaborare insieme a voi sì poi tu gli chiedi ma qual è il tuo modello le persone cascano dal pero come faccio a collaborare cioè se io ho un modello ma tu non ce l'hai questo modello sei in una posizione molto svantaggiosa quindi cosa vuol dire molto svantaggiata quindi vuol dire che io se ti trovi magari dall'altra parte ok una persona che vuole fare giustamente siamo nel business ok siamo all'interno del business i propri interessi ok fare i propri interessi non significa fregare le persone significa stipulare accordi in favore del proprio modello quindi questo accordo è una porcheria no è un qualcosa che sicuramente a seconda della strategia può anche essere un buon contratto non hai detto che faccia schifo ma se io non ho modello cosa vado a negoziare? negozio sul nulla negozio sul papiru piru piru come direbbe qualcuno quindi cercate di costruire il vostro modello cercate di svegliarvi cercate di capire che oggi la possibilità di togliere l'intermediario esiste perché questi sono tutti intermediari ok e uno dei grandi problemi della discografia attuale è che ci sono troppi intermediari a mio parere quando si potrebbe avere un rapporto uno a uno con il target con il proprio target valutate voi io spero che questo video sia stato utile se avete bisogno di aiuto sapete che potete contare su di noi logicamente non lavoriamo con tutti questo ci teniamo a dirlo anche perché ripeto iniziate ad essere un po' tantini quindi la selezione diventa sempre più ampia io vi ringrazio spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima arrivederci grazie a tutti grazie a tutti